Ampie rassicurazioni sull'impegno del governo per la risoluzione dei problemi riguardanti la strada statale 16 sono state date questa mattina dal ministro delle infrastrutture Paola De Micheli che nella giornata tutta abruzzese a Villa Filiani di Pineto ha incontrato i sindaci dei comuni che nelle settimane scorse avevano dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza per il transito dei tir sulla strada statale adriatica per la concomitante chiusura dell'A14 ai mezzi pesanti nel tratto Pineto-Pescara Nord. Ci sono 4 milioni e mezzo con un progetto esecutivo che Aspi ci presenterà il 20 di marzo sul Cerrano e che prevederà un intervento che non compromette la viabilità e inoltre ci sono circa mezzo milione di euro o poco più di interventi sulla statale 16 perché i comuni coinvolti dal blocco autostradale per il passaggio dei mezzi pesanti hanno avuto una serie di danni che verranno diciamo così compensati da un intervento di autostrade per l'Italia. Sinto con occasione davvero propizia quella di oggi con la presenza del ministro per affrontare concretamente la problematica della strada statale 16 e dell'A14. Vogliamo capire e comprendere come il governo andrà a monitorare quelli che sono i lavori che si dovranno effettuare per far sì che non si possano più ripetere situazioni come quelle che sono state vissute. Chiederemo questo impegno sicuramente in maniera forte per poter tutelare la salute dei nostri cittadini. A noi come comune naturalmente stiamo portando avanti attraverso i nostri uffici le richieste per il danno che si è avuto e soprattutto quello futuro perché non dimentichiamo che a Silvi transitano ancora i mezzi speciali e soprattutto i trasporti eccezionali. Diciamo che adesso dei passi in avanti sono stati fatti, in realtà rimane aperto tutta la questione che attiene ai guardrail, è chiuso ancora il casello e l'uscita di Roseto, ovviamente necessita che al più presto venga liberato il casello di Roseto. Abbiamo l'estate in arrivo tra qualche mese e vorremmo insomma essere pronti per affrontare la stagione estiva al meglio.